E vi do il benvenuto al vlog natalizio, l'ormai immancabile vlog natalizio, che quest'anno qui non è solo vlog natalizio, ma è anche il centesimo video sul canale. E' stato un viaggio veramente molto faticoso, ma di cui assolutamente non mi pento di niente. Ed è avvenuta questa appunto coincidenza, cioè il periodo natalizio del vlog natalizio con il centesimo video. Gli ho voluti fare assieme, di solito si fanno separate queste cose qui, ma perché innanzitutto ho metà del lavoro che devo fare, ma perché comunque sono insieme. Insieme, cioè vanno comunque a braccetto come video, perché il vlog natalizio, tanto ve lo ricordo, è una panoramica di ciò che è stato l'anno praticamente finito. Quindi in questo caso 2016, soprattutto per quanto riguarda l'anno del canale. E il centesimo video in teoria di solito si fa una panoramica del passato, quindi si incrociano e perché devo fare il doppio del lavoro. Parliamo un po' di questo 2016. Il 2016 è stato un anno di grandissima crescita. Seppur sempre, piccola parentesi, si parla sempre del mio piccolo orto. Quindi non si parla di grandi numeri, cioè c'è gente che fa le milionate, ma noi non li guardiamo nemmeno, certa gente. Però nel mio piccolo è stato un anno di grandissima crescita. Grande crescita nei numeri, perché a partire dagli iscritti e dalle visualizzazioni. Cioè pensate che per un canale piccolo come il mio, il video di Bleach sta sfiorando le 1500 visualizzazioni. Che per una persona normale è una roba giornaliera, routine giornaliera. Però per un canale come il mio, vedere 1500 visualizzazioni è tantissimo, è veramente tanto. Siamo cresciuti poi con gli iscritti, è cresciuto il numero di video, perché appunto dall'anno scorso in teoria, però consideriamo il 2016 dove è entrato a pieno regime il canale. Ho fatto praticamente tre volte i video che ho fatto gli anni precedenti. E vai a capire che cosa pensavo gli anni precedenti, quando facevo sei video all'anno praticamente. Che cazzo mi aspettavo? Cioè è inutile che fai sogni di gloria quando carichi sei video all'anno, proprio quando sei ispirato. E quest'anno qui è stato anche tanto, si parla di, ho fatto i conti, più di 50 video. Che per me è un qualcosa di inumano, data appunto la media video antecedente, l'anno scorso, l'antecedente prima del 2016. E' cresciuta la qualità, qualità non dei contenuti, sparo ancora tantissime stronzate, dico ancora tantissime porcherie. Però è cresciuta la qualità, perché ho cambiato il programma di editing, quindi non avete i quattro terzi, lo schermetto così piccolo. Era veramente una porcheria, è ancora lì, anche lì mi sto chiedendo il perché facessi certe porcherie. Ho iniziato a mettere le title card, le anteprime dei video. Ho cambiato postazione, ho apportato miglioramenti. Insomma è stato veramente un anno di crescita mostruosa. Del canale ma anche del sottoscritto, perché il 2016 è stato un po' la presa di coscienza del dover metterci magari un po' di più, metterci a spenderci quelle due o tre cose in più, quei due o tre minuti in più, per cercare di portare un prodotto quantomeno dignitoso. E quindi anche da parte mia c'è stato un grandissimo impegno inaspettato, perché l'anno scorso feci promesse di video settimanali, eccetera, eccetera, nuove video, nuove rubriche, e non ci credevo forse nemmeno io, invece ci sono video settimanali, bene o male ho mantenuto questa regolarità. Ho portato nuove rubriche, le prime impressioni su, i video su Treasure Cruise, dai su, go feste alle guide. Quindi veramente è un qualcosa a cui non credevo nemmeno. Un'altra cosa, ho fatto video corti, qualcosa che qua veramente non ci credevo, la cosa a cui credevo di meno. Cioè video un po' più concisi, video da 10-15 minuti, quando invece prima erano video di 30 minuti in su. Quindi ho raggiunto tanti traguardi di crescita, per cui veramente sono tanto contento. Ma ovviamente sarà una frase scontata, però comunque devo ringraziare anche voi, voi che mi avete supportato, e sopportato durante questo 2016, sia quelli che erano prima, sia quelli che sono arrivati adesso, perché veramente sono arrivati, seppur nel piccolo, ci tengo sempre a precisarlo, gli iscritti sono veramente aumentati di molto, e veramente sono fiero di ciò. Ma quindi cosa sarà il 2017? Parliamo ora del canale, ma vorrei anche spendere due parole sul mondo anime-manga-videogiochi, in modo da non uscire troppo dalle tematiche del canale in sé. Dal punto di vista anime-manga, vedremo la seconda serie di Shinjeki no Kyojin, se non sbaglio, che è veramente, si parla di grandi cose. Importantissimo, avremo il ventennale di One Piece, quindi preparatevi per almeno il video sul ventennale, che se non sbaglio è a luglio dell'anno prossimo, quindi almeno un video sul ventennale di One Piece, come ho fatto con Pokémon e come ho fatto con Evangelion, sicuramente ci sarà. Vedrò se fare il mese di One Piece, cioè quindi una serie di video che culmineranno con il ventennale, come ho fatto con i Pokémon, vediamo. Dal punto di vista di videogiochi, vedremo il debutto di NX o Switch, mi fa schifo chiamarla Switch, quindi della nuova console Nintendo. Vedremo, perché sono molto curioso, perché è la chiave per vedere se Nintendo finisce a gambe all'aria, tra virgolette, o no, cioè se continuerà con le console fisse o no, perché se va male non potrà più, vuol dire che non può più colmare quella voragine che oramai si è creata tra con Sony e Microsoft. Se va bene invece si può porre in modo competitivo, e tutto ciò la chiave secondo me sta nel prezzo, dipende dal prezzo, perché se ti poni con un prezzo competitivo, quindi ti devi calare, secondo me Nintendo si deve calare le braghe e svalutare la sua console, perché deve competere con una PlayStation 4, una Xbox One, che sono danni sul mercato, hanno prezzi da oramai competitivi, perché bene o male si parla di 250-300 euro, e hanno tantissimi giochi, tantissime esclusive, tantissime multipiattaforma, che Nintendo e Nintendo Switch non avrà mai, o comunque se avrà, avrà in ritardo. Quindi vedremo, il 2017 sarà un anno interessante per Nintendo e per i videogiocatori. Ma parliamo ora del canale. Il 2017 sarà come il 2016, ne più ne meno, voglio continuare con i video settimanali, continuare con le rubriche, quindi come ho già detto, le prime impressioni, i Treasure Cruise, eccetera. Vedrò i vari miglioramenti, ovviamente sono solo previsioni, ma nel 2017 vorrei fare il progetto live. Fin da quando ho iniziato su YouTube, il mio sogno, uno dei miei sogni, era quello di iniziare a fare delle live, appunto principalmente su YouTube, ma perché no magari tipo su Twitch o su altri canali di gaming. Non perché viva il gaming, seguiamo le mod, perché so figo, no, ma perché secondo me può essere interessante. Ho già tante serie in mente, tante serie da fare, sia sul canale YouTube, di approfondimenti, mi piacerebbe ad esempio, oltre ad approfondimenti, tipo magari se accade un qualcosa da commentare, subito live, ma di appuntamento fisso, ho l'idea tipo di fare live settimanali, di commento ai capitoli di One Piece, ad esempio, di commentarli assieme. Per quanto riguarda le live di gaming, anche qua ho tantissime serie, ho già i giochi in mente, e vorrei trasformare i Sugofest in live, perché secondo me sono nati per le live, i Sugofest, e chi lo sa magari accettare anche donazioni, come i veri streamer professionisti di Treasure Cruise, però secondo me è nato per le live, quindi ho in mente questo progetto live, ma il progetto live lo voglio attuare, solo se i numeri me lo consentono. Non pretendo le mille, duemila, tremila visualizzazioni a live, però se i numeri mi permettono di farle, quindi quantomeno una manciata di persone, che mi seguono regolarmente, lo faccio senza problemi, però fare delle live per una o due persone, per quanto siate care, e gentili, e bellissime, è uno sbattimento che non ho voglia di fare, quindi se i numeri me lo consentono, nel 2017 vorrei avviare questo progetto di live. Quindi auguro a me stesso, cento di questi video, altri cento di questi video, a voi invece auguro buone feste, buon Natale, buona Vigilia, buon Santo Stefano, buon Primo dell'anno, buona Befana, buon 2017, ringrazio di cuore tutti coloro che mi hanno seguito fino adesso, anche a quelli che verranno, però in particolare a quelli che mi hanno seguito finora, e noi ci vediamo appunto l'anno prossimo. i primi video dovrebbero essere le classiche, le classiche classifiche, che simpaticone, quindi dovrebbero essere quelli, i video rinizieranno dalla settimana dopo quella della Befana, ora non so la Befana come si pone, però la settimana dopo, quindi ufficialmente i video riprenderanno da quella settimana, ma 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 rimanete sintonizzati perché settimana prossima uscirà un video molto interessante, quindi rimanete sintonizzati perché il video di settimana prossima è molto molto interessante, non ho più nient'altro da dire, mi sono dilungato troppo, buone feste, grazie a tutti, ci vediamo nel 2017.